Proseguono i disagi a Chieti per quanto concerne l'erogazione dell'acqua. Il primo cittadino Diego Ferrara chiede al Consorzio Acquedottistico risposte certe per evitare altri disagi. Allora, intanzitutto il mio discorso deve iniziare con una assoluta aderenza e comprensione dei disagi che i nostri concittadini, soprattutto di Chieti Bassa, hanno da anni. Ovviamente sappiamo tutti quali sono le criticità, l'obsolescenza delle reti idriche che leggevo su un giornale, un quotidiano di ieri, arrivano e superano il 50% della stessa estensione della rete stessa con perdite giornaliere notevoli. La mancanza di fonti e di sorgenti che possano alimentare questo circuito e anche la condizione toponomastica, orografica anche di Chietiscalo con palazzi costruiti molto alti e che quindi avrebbero avuto già da subito, al momento della loro costruzione, il pensiero e la necessità di autoclavi. Nelle prossime settimane io chiederò all'ACA di ovviamente interrompere la somministrazione idrica ad orari più notturni per permettere alle persone, agli esercizi commerciali, di poter usufruire dell'acqua. Ma soprattutto dobbiamo cominciare a parlare seriamente di un argomento che era stato l'incipit dei nostri incontri ad ottobre e novembre quando mi sono insediato, la costruzione di autoclavi nei palazzi di Chietiscalo. Soprattutto in quelli più alti e quindi dobbiamo vedere il grado di compartecipazione tra loro e noi per far ottenere migliori risultati. Però ripeto ancora una volta, con l'ACA si dialoga, si lavora sinergicamente, non ci si deve combattere. Grazie. 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 Grazie.